Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Caspire. Qualche giorno fa ho pubblicato l'unboxing dedicato ai prodotti scelti dal sito. Se vi siete persi quel video ve lo linko qui nella link informazione. Ho scelto appunto 5 prodotti interessanti e adesso voglio focalizzarmi sulle fustelle. Ho scelto queste due tipologie davvero molto carina. Questa per realizzare dei graziosissimi cupcake. Infatti nell'unboxing ve la mostro appunto in dettaglio e quindi vi rimango anche il video. Oggi voglio dedicarmi appunto a questo set di fustelline davvero molto carine. Questo è il codice. All'interno sono tre tipologie di fustelle di forma e dimensioni differenti per poter realizzare dei cartoncini per andare ad abbellire le nostre creazioni, il nostro packaging. Queste fustelle come dicevo prima sono appunto per realizzare dei cartoncini che poi ospiteranno le nostre creazioni. In questo caso qui voglio utilizzarle per andare a fissare delle mollettine per capelli che adesso vi mostro perché ho alcune mollettine qui accanto a me che ho realizzato io in passato con la resina ipositica. Prima di mostrarvi le mollettine voglio ricordarvi che ovviamente il sito di Caspire ha lasciato un codice sconto per i miei iscritti. Per chi volesse esufruirne il codice sconto è Miss Julia scritto con 2A10 per avere appunto il 10% di sconto sul primo ordine. Quindi vi lascio il codice sconto sia qui in sovraimpressione e sia anche in descrizione di questo video. Adesso vi mostro le mollettine. Come dicevo in passato le realizzate diverse in resina. Non so se vi ricordate quel video ho realizzato queste mollettine qui, le ho realizzate davvero tantissime. Io le adoro e le ho realizzate anche tante anche per la vendita. Poi ho realizzato anche questa tipologia qui semplice con resina e glitterini che fanno davvero molta scena e anche questa tipologia qui con le letterine. Qui c'è scritta appunto Love ma volendo si può realizzare qualsiasi tipologia di scritta. E sono davvero molto carine queste mollettine per capelli. E poi ho realizzato anche questa qui con le mezze perle. Anche questa molto carina e davvero molto utile adesso che andiamo incontro all'estate. E come vedete come dimensione di fustella vanno bene queste due. Anche perché tenete conto che la scatolina che poi ospiterà queste creazioni, queste un po' più piccole. Il packaging io utilizzo sempre questa scatolina qui piccola ovviamente per le creazioni piccole sia fatte in resina sia quelle lì in perline. Quindi per questa tipologia di scatola vedo bene sia questo cartoncino qui che è proprio diciamo pelo pelo e poi c'è anche questa qui che è perfetta. La prima la vedo un po' troppo grande per questo cartoncino ovviamente. Vedete? È un po' troppo grande. Quindi questa qui andrò ad utilizzarla quando mi servirà un cartoncino per i pettinini, quelli grandi. Non so se avete presente che i pettinini per i capelli realizzati appunto in wire e perline. Quindi questa dimensione qua la vedo adatta per quei pettinini molto più grandi che ovviamente andrò a cambiare anche, andrò ad utilizzare ovviamente anche una scatola un po' più grandicella rispetto a questa qui glicina. Quindi per il momento andrò a realizzare queste due. Quindi scelgo il cartoncino del colore appunto uno di questi colori. Aspettate. C'è questo che è davvero molto carino con i cuori. Questo qua torchesino che è anche carino. Poi c'è queste quelle tazzine, pure carino. Insomma ho diversi tipologi di cartoncini anche semplici. Quindi vado a realizzare il panino che andrà all'interno della Big Shot. Infatti ho qui accanto a me la Big Shot e adesso andrò ad realizzare appunto il panino che poi andrò ad inserire all'interno del panino anche le fustelline. Eccolo qua. Aspettate. Questa è appunto la piattaforma base. Poi ci servirà l'adattatore A. Questa qui che è appunto il tappetino da taglio che è trasparente, non così si vede. Eccolo qua. E poi le fustelle, queste qui. Mi raccomando, le fustelle, la lama deve essere rivolta verso il basso. Ovviamente prima inserire il cartoncino, poi la fustella e poi nuovamente il tappetino da taglio. E poi inserire il tutto all'interno della Big Shot. Quindi scelgo il cartoncino e ritorno da voi. Ed ecco qui il risultato, davvero molto molto carino. Questa è la seconda. Adesso vado a fissare le mollettine. Ed eccole qua. Poi ovviamente realizzerò qualcuna anche per le mollettine queste con le scritte. Sono davvero molto molto carini. E ovviamente possiamo personalizzare questi cartoncini ulteriormente. Dal sito di Grasspire avevo scelto anche questi due timbri. Ed eccole qua. Questo è appunto il codice del prodotto. Per realizzare appunto il timbro piccolino in ceralacca o della ribellula o della farfallina. Oppure avevo scelto anche questo qua. Questo è il codice con la zampina. Davvero molto carino. E al limite si può realizzare questi piccoli timbrini in ceralacca e posizionarli sul cartoncino per andare ad abbellire ulteriormente. Io ho il bigliettino da visita come vi spiegatevo anche nell'unboxing con le farfalline. E al limite per personalizzare ancora di più il packaging posso realizzare dei piccoli timbrini appunto con la farfalla e andarli a posizionarli sul cartoncino all'interno del packaging. Oppure volendo possiamo inserire proprio sulla scatola una volta chiuso il pacchettino possiamo inserire il nastrino o il cordoncino e poi andare a fissare con un piccolo timbrino in ceralacca il nastrino. È davvero molto carino. Invece di utilizzare quelli lì grandi che magari sono troppo vistosi questo qui lo trovo davvero molto carino e delicato. Adesso vado a realizzare i timbrini e vi mostro ovviamente il pacchettino finito. Ed eccola qui realizzati. E come vedete sono davvero graziosi e piccolini. Ed eccoli qua. Questo l'ho colorato all'interno sempre con i pennarelli presi dal sito di Craspire che sono questi qui. Vi metterò il link anche di questi se sono ancora disponibili perché non li avevo presi adesso ma in una precedente collaborazione. Sono davvero molto molto carini. Poi chi è venuto un po' a piccicciutare questo è venuto davvero molto carino. L'ho colorato con il viola. E ovviamente anche i kit di ceralacca e anche la piastella questa qui in ceramica con il cucchiaino li ho presi sempre dal sito di Craspire. Inoltre volevo mostrarvi anche la differenza fra il timbro in ceralacca grande e quello piccino ovviamente. Ed eccoli qua. Questi sono disponibili tantissimi sul sito di Craspire sia con la scritta handmade with love sia anche con le letterine. e anche apetta, tante forme diverse. E come vi dicevo prima, questi qui piccolini li trovo adatti da aggiungere anche sul cartoncino interno dove andremo a posizionare le creazioni. Vedete? Vi mostro anche questo qua. Trovo davvero molto molto carino. Anche questo. Oppure aggiungerlo sulla confezione una volta messo appunto il nastrino con il fiocchettino aggiungere appunto il sigillo in ceralacca o piccolo o grande. Io in questo caso preferisco piccolo perché la scatolina è piccolina. Niente ragazzi, il video termina qui. Io spero che sia stato di vostro credimento. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao! 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 Grazie a tutti.